Un bando regionale da 1.700.000 euro per favorire le aziende molisane, promuovere corsi di formazione e riassumere gli inoccupati. Le figure del magistrato Paolo Borsellino e di Rita Atria che si sono immolati per lottare contro la mafia, testimonianze e ricordi a Frosolone. Per rendere efficace la legge sul registro tumori la regione è in attesa di un regolamento, il registro canalizzerà dati e informazioni sulle patologie. L'amministrazione regionale negli ultimi anni ha investito sulle due province circa 10 milioni di euro per migliorare l'impiantistica sportiva. Buon pomeriggio a tutti, iniziamo dalla cronaca in località Ortovecchio in territorio di Pietra Abbondante sulla Fondovalle del Verrino. Ha perso la vita ieri sera un uomo di 65 anni, Germano Battaglia, finito con il suo quad fuoristrada in una scarpata dopo aver perso il controllo del mezzo. Medici, carabinieri e vigili del fuoco a loro arrivo non hanno fatto altro che constatare il decesso dell'uomo residente a Bologna ma con origini nel Molise. Ancora cronaca, consegna spontaneamente pochi grammi di marijuana agli uomini della finanza che lo avevano fermato per un controllo per evitare una perquisizione più accurata da parte dei militari. Si è tradito da solo un trentenne spacciatore campano di Casoria che addosso nascondeva circa 100 grammi di hashish. Il giovane è stato arrestato e condotto in una cella del penitenziario di Isernia. Sarà interrogato nelle prossime ore dagli inquirenti. La Regione Molise ha prodotto un bando per promuovere occupazione sostenibile di qualità in favore di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi. I destinatari dovranno frequentare un corso formativo. La Regione ha puntato a risorse pari ad 1.700.000 euro. Vediamo. C'è una iniziativa, un bando regionale da 1.700.000 euro per l'inserimento e il reinserimento di coloro i quali il lavoro hanno perso. Secondo voi è una cifra che può bastare o è solo un piccolo passo in avanti? Allora questo è un bando che è scaduto il 2 di ottobre a cui le aziende proponenti potevano partecipare a questo avviso. Un avviso, come ha detto lei, per l'inserimento e il reinserimento lavorativo. Diciamo la cifra di 1.700.000 euro non bastano. È una cifra che inizia a dare delle possibilità di rioccupare persone che hanno perso il lavoro e di occupare disoccupati e inoccupati. Infatti i destinatari di questo intervento sono proprio molisani tra i 18 e i 65 anni che sono o inoccupati o disoccupati oppure in uno stato di ammortizzatori sociali. Saranno circa 27 progetti per un 200 lavoratori che potranno essere inseriti o reinseriti e questo è in quale comparto soprattutto? Assoluto. Allora il numero non lo possiamo sapere in maniera puntuale e precisa di 200 però più o meno dovrebbe essere quella la summa facendo dei conteggi in base ai voucher che possono essere erogati ai beneficiari. I comparti sono, su tutti i comparti, sono le aziende che stanno, quelle che possono fare l'occupazione perché in questo bando è obbligatorio occupare almeno il 50% dei partecipanti ai percorsi formativi. Per cui è un bando per l'occupazione e per ritrovare quella possibilità anche per chi ha perso il posto di lavoro di rioccuparla. Nei settori che sono i più disparati, i più forti, si spera anche che possa ritornare ad essere il settore forte, anche il tessile, il meccanico e l'agroalimentare che ha perso parecchi occupati. Lei che è un sindacalista abruzzese, come vede adesso nel 2017 la situazione lavoro e le speranze e le possibilità di crescita delle due regioni adriatiche Molise e Abruzzo? Il Molise si sta comportando bene per alcuni aspetti perché vediamo che ci sono aziende che cominciano a riportare occupazione e occupabilità. Speriamo che ci siano sempre più risorse da poter utilizzare perché oggi le imprese che si stanno rimettendo sul mercato hanno bisogno sia di nuove procedure e anche di nuove norme per entrare bene sul mercato e poi anche di qualche aiuto economico non guasta.